salve a tutti otaku del web benvenuti in questo nuovo video io sono ve mazzo ragazzi come state spero meglio di me perché come potete vedere ho dovuto cambiare post azione a causa del fatto che non riesco non riesco a stare in piedi non riesco a stare in piedi o almeno più di dieci minuti riesco a camminare quant'altro mi sono beccato una bella ernia lombare e quindi per me camminare risulta abbastanza faticoso e di solito io registro i video in soggiorno e sto in piedi ma più di dieci minuti non riesco a stare in piedi e quindi mi dispiace sono costretto a stare qui in in quest'altra camera sulla sedia e comunque ho trovato una sistemazione in modo che sia un fondo meno più bello da vedere non che cambia più di tanto nei miei video ad ogni modo si ho messo qua tutta la collezione di vita da slime c'è anche un terzo piano dove che ho messo tutte le action figure e anche qua sotto dove sto collezionando anche le mi sto collezionando anche le light novel metto tutto qua e ah sì inoltre mi è arrivata anche questa stupenda stupenda action figure che non costa neanche tanto mi sembrava un 40 euro qualcosa comunque molto molto bella molto d'impatto molto d'impatto allora cosa vorrò fare in questo video beh come è di consueto insomma ormai siamo a giugno siamo quasi a fine del mese e siamo al punto che la season primaverile sta per fine per finire finalmente faremo anche un video su quella faremo anche un video su quelle sugli anime che ho visto in primavera e sta per arrivare la season estiva e visto che ammetto non avevo molte idee per un video ma in realtà è un video che ho già fatto solo che era un video lungo dove ho messo sia la fine della la season invernale sia all'inizio della season primaverile ecco diciamo che volevo separare le due cose insomma fare un video unicamente sulle anticipi cioè sugli arrivi della stagione che verrà e un video su gli anime che ho visto nella stagione precedente infatti arriveranno intanto non sono ancora finiti gli anime primaverili ma quando finiranno almeno quelli che sto guardando faremo un bellissimo video a riguardo delle serie anime che ho visto ma adesso come il solito ciancio alle bande e diamo un'occhiata uno per uno i vari anime che stanno arrivando ve li metterò ovviamente qui in sovraimpressione così capite di cosa sto parlando bene tablet alla mano e sito di my anime list che ovviamente è il più completo riguardo appunto gli anime che stanno arrivando e cominciamo allora per prima cosa vedo che arriverà la seconda season di Oshinoko con un front molto strano sembra quasi un fantasy non lo so comunque non lo guarderò non lo guarderò perché non ho neanche visto la prima season e non ho mai letto il manga non mi interessa Oshinoko è uno di quegli anime barra manga che riguarda appunto le idol e che onestamente non mi attirano neanche un po' e neanche l'incipit della resurrezione in due gemelli figli di una idol insomma non è una cosa che mi interessa che mi ha mai interessato poi gli anime di idol non li guardo c'è l'unico anime idol che ho visto più recentemente è solo la prima season di Zombieland Saga che mi ha fatto abbastanza divertire la seconda season i primi due episodi li ho visti poi mi sono roto le scatole ma andiamo avanti allora il prossimo è Fairy Tail la quest dei cento anni allora per quanto sia un gran fan di Fairy Tail perché ho letto tutto il manga la quest dei cento anni io l'ho evitata come la peste per me Fairy Tail ultimo volume mi sembra il 64 è finito per me è finito quindi la quest dei cento anni per me è un anime che non esiste io sono convinto per certe cose certe serie televisive per certi film quello che volete insomma che ci deve essere una fine punto non serve continuare avanti però qua a quanto pare il suo autore vuole continuare avanti a me non mi interessa il finale di Fairy Tail è uno dei più belli che abbia mai visto ma non continuerò a guardarlo mi rifiuto mi rifiuto il prossimo che vedo in lista si chiama Kamino Tou Oji no Kikan che a quanto pare è un fantasy mystery adventure drama dovrebbe essere pubblicato su Crunchyroll non so se in Italia non mi attira il front però potrei dargli una possibilità non si sa mai il prossimo si chiama Tokidoki Bosotto Russia God del Deru Tonarino alias scusate questi nomi lunghi mi danno fastidio comunque le avevo già sentito parlare è una romance riguardante appunto questa che gira intorno a questa ragazza mezza giapponese mezza russa non penso serva di scrivere altro e boh lo guarderò non lo guarderò non lo so non so neanche dove verrà pubblicato e non a quanto pare non si sa neanche quanti episodi avrà ma saranno 12 sicuro oh il prossimo è uno dei più attesi e sono solo 10 episodi parliamo appunto di Isekai su Side Squad non lo guarderò non lo guarderò o forse deciderò l'ultimo secondo perché a parte il fatto che è un Isekai e gli Isekai onestamente non tutti sono buoni soprattutto un Isekai sulla DC Comics e io la DC Comics non leggo non mi interessa non mi riguarda non mi importa non conosco nessun personaggio non so se lo guarderò non lo so il prossimo è anche questo qua non lo guarderò Kimi Toboku no Saigon no Senju Aroiwa Sekai Gajimaru Seisen Season 2 essendo una Season 2 e la Season 1 non l'ho vista non so neanche di cosa parla quindi eviterò il prossimo è un'altra romance si chiama Gimai Seikatsu può essere interessante perché il front è carino Yuta Asamura ha una nuova sorellastra dopo che suo padre si è risposato si questa sorellastra si chiama Saki Ayase che ha anche la bellezza numero uno no allora eviterò scusate ma per questi tipi di romance non li tengo non li sopporto mi danno molto fastidio e mi annoiano mi annoiano sono poche le romance che mi piacciono ma molto molto rare molto rare il prossimo anche non lo guarderò perché non ho idea si chiama Enyer Automata versione 1.1 A parte 2 non ho visto la prima season non ho idea di cosa parli il videogioco non l'ho manco giocato e comunque c'è una lista di Steam non vedo l'ora di giocarlo sono molto incuriosito del perché di tanto successo non spoileratemi niente grazie il prossimo se ne sono dette di tutte e di più Shikanoko Noko Noko Koshitantan la ragazza c'è albiato ci sono usciti già i meme su YouTube è una cosa incredibile che poi vediamo di leggere la trama allora nessuno sa che Toraco è di solito una delinquente allora tutti i suoi compagni di classe pensano che sia una brava stentessa ma tutto quanto cambia quando Noko Tann una ragazza trasferita con i cervi nella sua vita come che erano l'hanno scritta sta roba comunque questa ragazza a quanto pare che si chiama Noko Tann ha in serbo il segreto di essere una cerva in realtà quindi una specie di Join the Pack parte 2 vi ricordate quell'anime dove le ragazze sono semi umane in realtà rappresentano degli animali sono tutte quanti in una scuola insomma è la minchiata dell'anno la minchiata ecco la season è l'anime stupido della season è l'anime stupido ogni season non deve avere un anime stupido il prossimo Isekai Shikaku avventura in un altro mondo con ragazze carine dove abbiamo il nostro Osamu Dazai che è un tizio melancolico melanconico preferisce praticamente stare per le sue arriva dall'altro mondo il nostro del 1948 poi neanche nel tempo nel 1948 dove esce non è specificato Crunchyroll quindi non so dove sarà pubblicato vedremo il prossimo è una comedy ecchi 2.5 Jigen Noririsa ho interesse nelle ragazze reali bla 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 insomma sarà la solita romance ecchi della ragazza otaku che è interessata in realtà anche le ragazze vere quindi Yuri il prossimo faccio velocemente si chiama Megamino Caffè Eternas Second Season è la seconda stagione appunto del ragazzo che si ritrova in questo bar che in realtà dopo ci vivono altre ragazze quant'altro adesso non mi ricordo ho evitato di guardarlo perché non stimolava in me nessun interesse il prossimo è uno slice of life Gigi Arem ma non se ho visto qualcosina ho saputo qualche rumor ma non credo che sia di mio particolare interesse quindi penso che lo eviterò non so neanche dove viene pubblicato non neanche specificato il prossimo invece potrebbe interessarmi Atri My Dear Moments adesso non mi ricordo se questo qui era un un anime ispirato a un videogioco o qualcosa non lo so mi sembra più una visual novel non ho idea se ne sapete qualcosa di più ditemelo nei commenti però essendo sci-fi mi interessa mi interessa probabilmente non è un sci-fi action infatti è un drama romance quindi probabilmente sarà ambientato in un futuro oppure sì in un vicino futuro come è spiegato comunque la descrizione anche io non leggo sono pirla sarà appunto ambientato in un futuro e sarà un romance insomma è un romance indifferente in che periodo lo metti il prossimo si chiama Senpai wa Otokonoko Otokonoko scusate sembra quasi la versione triste di Uza come si chiama quella lì wants to hang out altra romance che ho evitato più che volentieri adesso non mi ricordo come si chiama ma a quanto pare parliamo di un cross-dressing boy sì praticamente parliamo di un romance con un ragazzo che si traveste da donna ok il prossimo invece sembra un anime di mistero chiamato Shoshimin Serious non ne ho la benché minima idea non conosco aiutiamoci insieme per diventare dei perfetti cittadini ordinari insomma abbiamo i nostri due protagonisti che in realtà si frequentano che non è che sembra siano proprio amici ma perché vogliono vivere una relazione segreta non amorosa ma per cercare di capire come vivere in maniera pacifica mi sembra una stupidaggine detta così ma è così che è descritto qui sul sul sito però a quanto pare succedono delle cose degli strani incidenti delle sfighe intorno a loro curioso curioso potrei darci un'occhiata il prossimo action fantasy e sci-fi allora sto già avendo una brutta esperienza con god's game we play in questa season primaverile non credo che perderò ulteriormente il mio tempo su robe del genere perché è evidente che è un anime per ragazzi per adolescenti ma questi tipi di anime secondo me stanno lentamente inesorabilmente morendo perché tutte le idee per me sono già state tutte scritte insomma il prossimo è Tsue Totsurugi No Historia action adventure fantasy non i sekai perché molti sekai sono fantasy e quindi oggigiorno se ne fanno tanti allora allora Tsue No Tsurugi No Historia sembra essere un fantasy x y di un'accademia magica penso che non perderò il mio tempo il prossimo potrebbe essere invece è un fantasy molto interessante maogun maogun saikyo nomazutsuchi waningen scusate non riesco a leggerlo veramente è una roba terribile comunque è un action adventure fantasy sembra praticamente riguardo la storia di un tizio che sembra la più forte armata magica che lui stesso viene chiamato la più forte armata magica ma non lo so non lo so ragazzi non ne ho sentito di rumor di questo qua ah no scusate è un isekai è un isekai porca miseria è un isekai ma porca è il prossimo è un altro isekai questo è il titolo di questo anime allora piccola pausa a me i isekai piacciono piacciono tanto ma tanto veramente la qualità però di questi ultimi due anni è veramente scadente ma tanto scadente non c'è niente di interessante proprio anche questo qua non sembra dare una buona buoni auspici probabilmente lo guarderò perché probabilmente mi ritroverò a guardarlo non so neanche dove che esce non è specificato probabilmente mi troverò a guardarlo e magari vi dirò com'era alla fin fine mi ritrovo sempre a guardare degli isekai a ogni season però purtroppo la maggior parte di questi sono una delusione totale il prossimo invece è un altro fantasy romance non isekai che si chiama ma siccome parliamo di ragazze magiche Magical Girl a me non interessa minimamente il prossimo è una comedy romance che si chiama Maker Heroine Ga Osugiru scusate non riesco a leggere questo termine non è altro che è una comedy romance di un tizio che si autodefinisce un personaggio secondario ma alla fine si trova circondato da delle persone che sono principalmente ragazze ma va che cominciano insomma a frequentarlo sempre di più soprattutto anche la sua amica d'infanzia scartato non lo guarderò il prossimo è un altro anime Yori e siccome Yori non mi interessa il prossimo invece è un altro anime adventure comedy però comedy vuol dire che dovrebbe far ridere ambientato in chissà quale epoca storica si chiama comunque Nige Yōzu no Wakagimi non conosco niente non ho sentito nessun rumor quindi non so dirvi se lo guarderò aspettiamo qualche trailer perché io non ho visto trailer di questo il prossimo è un boys love tassogare house focus il boys love non sono il mio target ma neanche lontanamente e quindi no non lo guarderò il prossimo è un fantasy slice of life maudogushi da hilia wa utsuma kanai dimmi che non è un isekai si è un isekai è un isekai anche questo porca miseria ed è uno dei peggiori anche i isekai slice of life fanno schifo fanno tutti schifo o almeno non sono così schifosi te li guardi e dici ah bello ok basta il prossimo è una comedy romance sci-fi boku no tsuma wa kanju ganai takuma è un ragazzo che vive da solo che non fa niente che va al lavoro e dopo torna a casa non fa una mazza troppo stanco per fare qualunque altra cosa decide di comprarsi un robot che cucina che si chiama mina chan questi tipi di anime non sono una novità in realtà abbiamo abbiamo altri anime che hanno fatto più o meno la stessa hanno avuto più o meno lo stesso incipito ovvero sia la ragazza robot abbiamo ad esempio il film Hull anche se quello che vi ho appena detto è uno spoiler e abbiamo anche Plastic Memories che vi ricordo è uno degli anime più belli che siano mai stati realizzati e se non l'avete visto vi consiglio di vedere Plastic Memories potrebbe essere interessante però potrei dargli un'occhiata non so dove esce quando esce dovrebbe essere non è specificato in che piattaforma dovrebbe uscire non so neanche se arriverà in Italia peccato perché se non arrivi in Italia tocca andare sui fan sub andiamo al prossimo che è un fantasy che si chiama Delicos Nursery che riguarda la storia di Dali Delico che è un aristocratico di una prestigiosa famiglia però non capisco il resto della trama praticamente dovrebbe avere dei patti di sangue insomma ah perché vampiri vampiri ecco allora anime sui vampiri no no specifici sui vampiri no non mi piacciono li trovo molto noiosi strano che dico una cosa del genere perché me gli anime e il gothic horror piacciono un casino ma quelli specifici sui vampiri proprio sui vampiri proprio no proprio non so cosa dirvi non mi piacciono oh il prossimo è un anime che eviterò a tutti i costi che si chiama VTuber Nandaga Ashinkiri Wasuretara Densezu Ninattera non so se l'ho letto bene ma intanto è un anime quelli anime quelli anime sui VTuber che non mi interessa guardare non mi interessa cioè proprio il modo VTuber a me non me frega niente il prossimo è un Action Adventure Fantasy Scusate ma questi nomi lunghi veramente è una roba insopportabile non riesci neanche a leggerli bene non riesci neanche a leggerli bene cioè anche sapendo il giapponese ad ogni modo questo è un Action Adventure Fantasy non so dove sarà pubblicato non ho idea di cosa parli qua è spiegato in maniera abbastanza confusionale la trama e quindi non ve la sto a leggere diciamo che comunque sono i soliti i soliti intrighi politici principesse nobili abbiamo un eroe insomma il classico il prossimo è un altro Isekai chiamato appunto Isekai Yuru Rikiko Kosodate Shinagara Bonkesha Shimasu diciamo che avevo sentito qualche rumor se guardate questi Isekai ma lo stile non mi piace già sul front non ci siamo un po' come mi sono reincarnato nel Settimo Principe anime che ho evitato come la peste il prossimo non lo conosco si chiama Shai Tokyo da Kanhen è quanto pare la seconda season di Shai Shai lo conosco per sentito dire ma non ho idea di cosa parli quindi niente salto questo qui il prossimo invece dovrebbe essere uno di quegli anime stupidi Elf San Wa Yaserarenai come potete vedere dal fronte abbiamo a che fare con Elfi sovrappeso ed è come di Fantasy Echi e parla appunto di Naoek Kun che è un terapista massaggiatore e ha dei pazienti strani delle strane pazienti molto strane non mi sorprende che questa roba è Echi il prossimo è Bye Bye Heart Action Adventure Fantasy vediamo se me lo conferma se questo tablet funzionasse ok non è Isekai ma è di bestia antropomorfe non mi interessa il prossimo ne ho sentito qualcosa Kono Sekai wa Fukansen Sugiru però era soltanto qualche clip aveva un qualcosina che potrebbe essere interessante ma deciderò all'ultimo il prossimo è un altro anime di quelli Mob Kara Hajimaru Tansaku e Yotan riferito più a un pubblico adolescenziale a giudicarsi non credo che lo guarderò deciderò anche in questo caso all'ultimo comunque Action Adventure Fantasy vediamo vediamo come ho detto questi anime stanno morendo secondo me il prossimo lo evito come la peste perché se è un anime su sport non lo guarderò Nanare Hana Nare solo che non ho capito di che sport tratta questa roba qui e sulla trama non c'è scritto niente quindi non ho la benché minima idea di che razza di sport dovrebbe trattare questo anime comunque se è già indicato come sport lo evito anche il prossimo è un Action Adventure Fantasy che si chiama Shin Mai Osan Bokensha Saikyo Party Nishinu Hodo Kitaira Arete Mutekini Haru ma traduceteli in inglese non so se lo guarderò non mi ispira molta fiducia sembrano di quei fantasy comici in realtà non mi sembrano di quei fantasy seri il prossimo invece si chiama Mayonaka Punch riguarda appunto sempre le youtuber oh cominciano a venire fuori sempre più questi anime sugli youtuber sui vtuber no no dai non potete cambiarmi una moda con una moda più schifosa già gli isekai eravamo tutti quel punto di domanda alla fin fine comunque siamo venuti fuori con tanti anime di qualità e 80% è schifezza totale insomma non potete tirare fuori anche anime sugli youtuber anime sugli youtuber fa già ridere detta così fa ridere il prossimo invece l'avevo già adocchiato dungeon non ha kanohito probabilmente sarà una minchiata totale adventure comedy e fantasy però il front è molto interessante inoltre anche la trama è interessante riguardando appunto i dungeon inesplorati con trappole e mostri da parte di queste due ragazze che vogliono proprio studiare i dungeon almeno questo è quello che leggo qui insomma ma qui lo dico e qui lo nego quindi non ho idea di che cosa tratterrà ve lo vedremo lo vedremo ma comunque sembra interessante allora il prossimo invece è sengoku yoko sema kontonhen ed è soltanto una second season di sengoku yoko e io non avendo guardato questo anime lo salto oh il prossimo anime invece lo voglio vedere a tutti i costi anche perché fa parte della mia infanzia e soprattutto di molti di voi immagino si è un anime sportivo ma però è un anime veramente imbecille che lo voglio vedere a tutti i costi kinni kuman ovvero si ultimate muscle e mi sembra che questa sia la stagione prequel cioè prima di tutti gli eventi della serie originale e non vedo l'ora non vedo l'ora ragazzi new kinni kuman anime project per commemorare la serie anime e il suo quarantesimo anniversario mamma mia ragazzi non vedo l'ora del prossimo penso che non frega niente a nessuno si chiama ramen a caneco e sembra una porcheria anche il prossimo non mi interessa grandizer o cos'è mazzin kaiser grande mazzinga ufo robot non lo so non mi interessa anche il prossimo non stimola il mio interesse tensui no sakuna hime che è un anime su una divinità minore che non so cosa riguarda non ho proprio idea e non non mi genera nessun interesse il prossimo potrebbe essere invece interessante ma è un punto di domanda incredibile perché anche la trama non riesco a capirla allora tasukezu si chiama action drama e suspense allora la storia segue un gruppo di 5 persone dove dove si trova in un mondo dove la gente compare senza motivo è un misterioso essere chiamato l'imperatore unisce questi 5 personaggi all'interno di un loro gioco mandando loro dei messaggi uno di questi qua il primo messaggio è rispondere alla domanda vuoi vivere o morire e il gioco ha soltanto una regola la maggior parte di loro moriranno cioè questa è la traduzione essenzialmente e io non ho la benché minima idea di con che cavolo di anni abbiamo a che fare quindi non lo so punto di domanda non ho visto trailer quindi non so se lo guarderò io voglio anzi posso dire anzi vorrò guardarlo vorrò guardarlo non so se sarà su una piattaforma se sarà su un fan sub io lo voglio guardare quest'anno mi incuriosisce molto magari sarà una porcheria ma comunque già così la trama già fa di suo di suspense insomma ti incuriosisce ti incuriosisce il prossimo è un isekai zero saigi start dash monogatari e a vedere dalla copertina insomma dai disegni anche da come che dovrebbe essere questa cosa io non lo guarderò lo eviterò anche il prossimo non lo guarderò card fight vanguard divinet season 2 una seconda season di un anime che non ho idea e non ho capito se questo è yugioh se questo è non so neanche che cavolo di gioco è non ho idea il prossimo è yamishibai 13 avant-garde horror supernatural io queste robe qui questi tipi di disegni non li tengo che poi è la tredicesima stagione di yamishibai quindi non lo guarderò non ho neanche idea di cosa parli il prossimo è una stupidaggine è harimaware coin second season non ho idea di cosa sia anche il prossimo è una stupidaggine come qui non frega niente a nessuno è gumi legacy e siamo all'ultimo è uguale jokum non penso che interessi niente a nessuno e con questo concludiamo finalmente non so quanto sarà lungo questo video io penso un bel po' anche perché la lista di anime per la stagione estiva non è corta e il problema è proprio questo come ogni stagione estiva purtroppo ci sono tanti anime tanti anime brutti brutti come ci si aspetta ad altronde perché gli anime migliori vengono fuori sempre in primavera autunno anche in inverno ma in estate è sempre periodo di anime immondizia solo pochi anime vale la pena dargli un'occhiata e dare proprio tempo per guardarli diciamo che in estate io tendenzialmente non so cosa fate voi ma io tendenzialmente tendo a guardare anime vecchi che sono già stati pubblicati usciti e che magari vorreste vedere ma non avete avuto il tempo oppure avete pensato in un secondo momento di vederli tipo come capita molto spesso a me quindi ad esempio ad esempio ergo proxy io non ho mai visto ergo proxy voglio vedere ergo proxy porca miseria che non ho capito come cavolo ho fatto a saltare quell'anime maledizione è ora è ora di recuperare è ora di recuperare bene ora che siamo arrivati fino a qui io ti dico veramente grazie grazie mille di aver guardato il video fino a qui ci vediamo ad un prossimo video se il video ti è piaciuto metti un bel like che non costa niente se vuoi discutere riguardo alla nuova season anime che sta arrivando possiamo discutere qua sotto sui commenti quale guarderai quale non guarderai quale ti ha tirato di più quale ti ha tirato di meno oppure quali sono gli anime che guarderesti tu che invece io ho detto che non guarderei neanche per il fiocco detto questo ti chiedo ancora di iscriverti al canale se non ti sei iscritto metti un bel vai a premere su iscritto vai a premere su iscritto anche quello non costa niente io non monetizzo il mio canale non mi interessa monetizzarlo non posso neanche in realtà uno perché non ho iscritti e due anche se li avessi non potrei lo stesso per il lavoro che faccio quindi non posso non posso monetizzare i miei viti tanto lo faccio solo per divertimento quindi ti chiedo di iscriverti al canale non costa nulla detto questo grazie ancora e ci vediamo al prossimo video grandi raga